Motoclub è un'istituzione a Trotica di Morrovalle, da quanti anni che esistete come motoclub? Motoclub Morrovalle, nato nel 1975, Bella Realtà, è una delle associazioni sportive più longeve del comune di Morrovalle e siamo qua. 22 anni fa abbiamo iniziato per gioco a mangiarci un po' di castagne tra di noi, oggi abbiamo una realtà di migliaia di cittadini che si divertono insieme a noi e che oltre allo sport e oltre alla gara che siamo visti oggi con la bella vittoria del mondiale di Pecco Bagnaia, qui con noi che abbiamo messo il maxi schermo e tutto, stiamo qua, ci divertiamo grazie alla magnifica giornata. Un evento a tutto tondo, Presidente? Sì, 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 ci ha aiutato anche il cielo sereno, oggi è un po' freddino però va bene. Per il bimbrulè è speciale. Il bimbrulè è proprio speciale. Le castagne sono buone. Perfetto, le castagne... La musica folkloristica fa la contorno. Contorno e via, così bene, ci divertiamo no? Andiamo verso la ventitresima al prossimo anno? Il prossimo anno mi auguro sì, speriamo bene perché questa di quest'anno l'abbiamo fatta di sicuro. Il prossimo anno vedremo, noi la volontà ce la metteremo tutta. Sì, 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 sì.